Ciao, benvenuto o bentornato nell'officina della felicità. Io sono Valentina, insegnante di Mindfulness e terapista alimentare. Oggi, dopo molto tempo, ritorniamo a parlare di meditazione, o meglio, ti insegno oggi il significato della visione, cioè che cosa significa avere una visione per iniziare a meditare. È sostanzialmente impossibile iniziare a fare qualsiasi tipo di attività, non solo la meditazione, se non si ha una visione chiara di dove si vuole andare, di ciò che si vuole raggiungere, se non si ha una motivazione alla base del percorso che si sta per intraprendere. E credo che questo sia ancora più vero quando si tratta di imparare, o meglio, di iniziare a meditare. Perché per noi che siamo abituati a dare un senso a ciò che facciamo solo sulla base dell'azione, del risultato, della praticità di quello che facciamo, del correre e della gestione del tempo, pensare di dedicare qualche minuto della giornata a non fare assolutamente nulla, stando seduti in silenzio può sembrare una follia. E quindi proprio per questo ti invito a trovare la tua visione prima di iniziare a meditare. Solo grazie alla visione potrai riuscire ad essere costante nel tuo impegno. Allora ti risparmio le scuse che ti inventi sempre per non meditare, te ne ho già parlato in un altro video e trovi il link qui sotto nella descrizione. Comunque lo trovi nella mia playlist meditazione. E ti invito invece a farti due domande molto importanti. La prima è che valore ha la meditazione nella mia vita o che valore porta la meditazione nella mia vita? La seconda è perché sento che la meditazione è la strada giusta per me e come può esserlo? Rispondere a queste due domande può non essere così semplice e immediato, può portare ad una riflessione profonda e per questo ho creato per te tutta una serie di consigli che ti possono aiutare a rispondere a queste importantissime domande. Primo consiglio, fai attenzione alla visione romantica della meditazione. Noi occidentali abbiamo questa visione molto romantica della meditazione per la quale la meditazione è questo momento meraviglioso come ci immaginiamo i monaci zen in mezzo alla natura che meditano e ci renderà persone migliori, più tranquille, più calme, basta sedersi e chiudere gli occhi. La verità è che per noi, come ti dicevo prima, è molto molto difficile fare tutto questo e la meditazione non è solo questo. La meditazione è un impegno che noi prendiamo, è qualcosa che ci deve portare a fare delle rinunce. Perché? Perché significa magari alzarsi prima al mattino, la sera magari prima di andare a dormire, invece di collassare sul divano davanti alla televisione, significa ritagliarsi del tempo per meditare, quindi magari rinunciare ad altre attività, ma significa anche riuscire a stare seduti in silenzio e a non fare nulla, il che sembra molto facile e in realtà è molto più complesso di quello che sembri. La meditazione richiede tempo, rinunce, costanza e molta disciplina ed è importantissimo sapere tutto questo prima di iniziare per dare ancora più forza alla tua visione. Secondo consiglio, la tua visione deve essere profonda e tenace, deve essere allineata con i tuoi bisogni più profondi, quindi prenditi del tempo per capire perché vuoi meditare, dove vuoi andare, che persona vuoi essere. Questo è molto importante, devi riuscire ad ascoltarti perché soltanto una visione davvero allineata con la tua essenza può riuscire a farti meditare ogni giorno anche quando sei stanco, anche quando vorresti posticipare la sveglia, quindi fai molta attenzione e scegli con grande, 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 grande attenzione la tua visione, o meglio la visione non si sceglie, ho usato la parola sbagliata, la visione arriva, si comprende e fa parte semplicemente di noi e della nostra natura. Terzo consiglio, la visione deve essere solo tua, non farti influenzare da quello che dicono, fanno o pensano gli altri, quello che è giusto per il tuo amico, per tuo fratello, per tua sorella o per l'influencer su Instagram, non necessariamente è giusto per te, quindi solo quando trovi qualcosa che risuona con te stesso e che quindi è soltanto tuo, è soltanto la tua visione, questa potrà essere efficace. Quarto consiglio, rinnova la tua visione ogni giorno, cosa significa? Significa che noi siamo esseri in continuo cambiamento, in continua evoluzione e magari ci rendiamo conto ad un certo punto che quella che credevamo essere la nostra visione, la nostra guida, la nostra motivazione per noi non funziona più, magari perché siamo cambiati o semplicemente perché quella che pensavamo essere la nostra visione in realtà non lo era. Quindi ogni giorno oppure comunque quando senti che hai difficoltà a mantenere la costanza nella meditazione, ritorna alla tua visione e chiediti se risuona ancora con te stesso, chiediti se ancora riesce a motivarti ad andare avanti, ad essere costante. Quindi non essere rigido e non essere troppo severo. metti in conto che è possibile che la tua visione potrebbe essere sbagliata o magari potrebbe non essere semplicemente più giusta per te perché sei cambiato e quindi la tua visione deve crescere e si deve rinnovare insieme a te. La tua vera visione deve essere in realtà una visione senza tempo, quindi una visione che si adatta ad ogni momento e ad ogni circostanza, magari ci vorrà un po' per trovarla, ma la tua visione diventerà il tuo porto sicuro, cioè quel luogo in cui tornare sempre, non solo quella mattina o quella sera in cui non avrai voglia di meditare, ma anche nei momenti più difficili perché ti sarà di incoraggiamento quando le cose magari non andranno nel verso giusto. Bene, come ti dicevo all'inizio di questo video, la visione può essere qualcosa da applicare non solo alla meditazione, ma anche alla ricerca di un nuovo lavoro, al capire quali studi, quale carriera voler intraprendere, ma anche semplicemente per cercare di cambiare vita. Insomma, la visione è qualcosa che ti guida, come ti dicevo, nei momenti difficili. Deve essere solo tua e deve essere senza tempo. Quindi io ti invito e ti auguro di trovarla e sappi che per farlo c'è solo un posto dove devi guardare ed è dentro di te. Spero che questo video ti sia piaciuto, se sì, lasciami un like e fammelo sapere nei commenti, raccontami se ce l'hai già qual è la tua visione e per non perderti i prossimi video iscriviti al canale.